Satana in pelliccia non vuole essere un messaggio dogmatico, ma un invito alla riflessione, perché del resto non serve essere animalisti per capire che la vita in tutte le sue forme non va indossata, bensì rispettata. Che cos'è stata Satana in pelliccia? Prima di tutto è stata una sfilata di moda un po' particolare, organizzata non da grandi marchi, ma da singoli attivisti, dove sfilavano delle attiviste e non delle grandi modelle, dove al centro il tema era la vita, il rispetto per la vita e non il lusso. Satana in pelliccia è stata anche una manifestazione carica di senso, nella società del non senso. Ogni anno migliaia di animali sacrificano le loro pelli per essere esibite da persone che stanno nello status symbol. Questa usanza ormai è diventata abbastanza obsoleta, tanto che c'è stata la nascita della pelliccia ecologica. La pelliccia ecologica può essere di due materiali, cotone nei casi di pellicce di grandi marche, oppure sintetica che si trovano anche in grandi magazzini. Queste pellicce sono molto più comode delle reali perché non richiedono la stessa manutenzione, non hanno gli stessi costi e hanno una durata più lunga. Diciamo che questa nuova moda dell'ecologico speriamo che sia una moda che continui perché è quello che dimostra adesso una nuova coscienza da parte della gente e anche dal mondo della moda. Allo stesso modo delle pellicce, di cui ce ne sono materiali sintetici alternativi, così per la diffusissima pelle animale usata per l'abbigliamento e gli accessori, ce ne sono tanti altri materiali sintetici sia a basso costo, quindi più economici, ma anche più qualitativi, che possono essere un'alternativa etica all'acquisto di tali diffusissime pelli animali, così come per le scarpe, per le borse, per le giacche. Facendo attenzione anche ad un errore comune, qual è l'ecopelle, che è comunque delle relazioni di pelle animale, ma trattata chimicamente in modo ecologico, dall'edere meno l'ambiente rispetto agli altri trattamenti usualmente usati. Sabato 6 dicembre si è svolta in Piazza Santi Apostoli a Roma una sfilata di moda un po' particolare, che noi riteniamo sia un'altra importante tappa del percorso di educazione e azione intrapreso dal movimento giovanile Istinto Animale. Quello che abbiamo fatto è stato mostrare una sfilata di moda da un altro punto di vista, quello degli oppressi. Accompagnate da un sottofondo musicale, diversi attivisti hanno sfilato su una passerella con il corpo ricoperto di sangue, indossando varie parti di pelliccia, mentre ai loro lati numerosi altri attivisti hanno esposto striscioni e cartelli informativi, particolarmente carichi di senso. Come possiamo constatare amaramente ogni giorno, la nostra società è caratterizzata dalla mancanza di senso. A quante persone è negato fin anche il cibo, malgrado l'incredibile quantità di ricchezza concentrata avidamente in poche mani? Quante sono le foreste pluviali trasformate in pascoli per allevamenti intensivi e ridotte in pochi anni in terreni desertificati? Quanti ecosistemi necessari per la stessa qualità della vita umana vengono sventrati per far posto a grandi opere assolutamente inutili, se non ad alimentare il profitto di grandi multinazionali, di subalpaltatori, inodore di mafia e politici corrotti? I cartelli comprendevano diverse parole negative per classificare le pellicce, dolore, morte, sofferenza, lussuria, prigionia, vanità, gabbia, mercificazione. Ma ce n'era una capace di rimandare a un pensiero positivo, innocenza. Ed è proprio riflettendo sull'innocenza di tutti gli animali cacciati o allevati barbaramente per le pellicce, che non possiamo esimerci dal batterci perché questa usanza barbara, crudele e infame sia cancellata. Le alternative ci sono. L'innocenza diviene portatrice di speranza per un futuro prossimo, dove le parole espresse dal monaco nei fratelli Karamazov di Fyodor Dostoyevsky non abbiano più ragione d'essere. Amate gli animali, non inquietateli, non tormentateli, non togliete loro la gioia, non opponetevi all'intenzione di Dio. Uomo, non porti al di sopra degli animali. Essi sono senza peccato, mentre tu, nella tua grandezza, guassi la terra al tuo solo apparire, lasciando dietro di te la tua lurida traccia. È ora che l'essere umano scenda dal suo presunto trono e torni a concepirsi come un animale, seppur con le proprie peculiarità, nel rispetto di tutte le altre specie sul pianeta. La speranza deve essere sempre un qualcosa di attivo, mai di passivo. Le parole non significano nulla se non sono supportate dalle azioni. Allo stesso modo, l'azione presuppone una base teorica che le fornisca una direzione e una strategia, perché sia efficace. Satana in pelliccia ha così voluto, attraverso l'immedesimazione nei corpi degli animali torturati, mostrare la necessità di sperare in un cambiamento. Lo CC. Ho scottato, compilito! Allo stesso modo, ho scottato, allo stesso modo. Ti spiego, ho scottato, a quando la passa di un'attenzione. Allo stesso modo, ho scottato, a quando la passa di un'attenzione. When love is wrong, you monsters are born Replace my fear with pain The common seal, my love awaits I'm never turning back The day has gone, embrace the love Now I lose my soul I'm sent to the blood by this heart Now I lose my soul There's no choice but in this grave Now I lose my soul Tease my hand down the front of me Now I lose my soul When time is the lady's such made Nothing like this, let's say something to say Buonasera a tutti, io sono Mattia Biancucci Militante e distinto animale Credo che essere qui oggi, nonostante il mal tempo Avendo sfidato una pioggia che c'era e non c'era Sicuramente ha un valore ancora più forte di quanto voi tutti possiate pensare Seppur questa piazza possa sembrare relegata in secondo piano Rispetto a ciò che è a Roma, il centro di Roma In realtà ha una valenza strategica anch'essa Poiché si trova a due passi da via nazionale Una via dove sostanzialmente sfavillano tantissime, numerose I negozi che vendono pellicce o giacche con inserte in pelliccia Oggi fortunatamente la pelliccia ha perso quel suo grosso valore Nonostante fosse fortemente deprecabile Che aveva un tempo, che era quello di status symbol Negli anni 70 era di fatto uno status symbol Possedere una pelliccia Oggi sicuramente questo indumento ha perso quel suo valore Ma nonostante queste grosse campagne di sensibilizzazione Come possiamo ben vedere c'è ancora qualcuno che risulta recalcitrante all'argomento Ma che cos'è la pelliccia oggi? Oggi la pelliccia rappresenta pienamente la malvagità, la vanità di un essere umano Ma del resto rappresenta pienamente lo specchio della società attuale Una società che antepone profitto e benessere a qualsiasi cosa Che possa essere dei diritti, che possa essere una morale E che possa essere anche la stessa vita di un essere vivente Io credo che tra noi, vedo tanti volti di attivisti Forse potrebbe anche risaltare noioso dire cos'è la pelliccia, cosa rappresenta Ma magari per chi non è molto avvezzo a questi temi Potrete ben vedere i cartelloni esposti da molti di noi Cos'è la pelliccia? La pelliccia è morte, la pelliccia è crudeltà, è una gabbia È l'innocenza strappata e questo è ciò che rappresenta Io credo, non mi vorrei dilungare troppo In conclusione vorrei ringraziare voi tutti perché siete qui In primis perché avete sfidato in mal tempo In secondis perché comunque è una lotta che dobbiamo vincere sicuramente Vorrei ringraziare soprattutto i miei amici di Stinto Animale Soprattutto tre persone, Lorenzo, Martina e Naomi Che si sono praticati davvero in modo eccelso per la ben riuscita di questo evento Ringrazio oltremodo anche tutti i modelli che si sono succeduti su questa scaletta Vi ringrazio ancora, arrivederci Grazie a voi Ad oggi le pellicce sono effettivamente usate solo da un'elite di poche persone L'utilizzo maggiore consiste più che altro in interni di guanti, cappelli, pellicciotti ed altri inserti di vari capi di abbigliamento Purtroppo sono più che altro le industrie e i negozi asiatici Dato il loro dilagante consumo di carne, di cane e di gatto Ad utilizzare le pellicce di questi animali per i capi di abbigliamento Ciò è riscontrabile anche leggendo sulle etichette che riportano diciture come Bombay Cat o Asian Cat o Dog Uno dei motivi per cui questa manifestazione è stata fatta è proprio quello di sensibilizzare le persone ad essere più responsabili in quello che comprano In modo da scegliere eticamente in cosa spendere i propri soldi Le pellicce sono sofferenza e sangue, sangue di miliardi di animali cresciuti in allevamento o addirittura prelevati dal loro territorio, dalla loro casa Noi possiamo scegliere, possiamo informarci, possiamo cercare di acquisire una consapevolezza riguardo a tutto questo dolore Necessario solo per la nostra vanità Vanità che in realtà c'è la crudeltà, c'è la insensibilità riguardo alla sofferenza di infinite specie di animali Molti vengono uccisi da cuccioli perché la loro pelliccia è migliore Vengono scuoiati vivi affinché la pelliccia si gonfi per avere un aspetto migliore Quello che chiedo oggi è di mettere una mano sul cuore e riflettere su quello che oggi è successo Ho partecipato ad un evento che riguardava principalmente quello che è la pelliccia Uccidere gli animali, ferirli Allora mettiamo questa mano sul cuore e riflettiamo su ciò Prendiamo coscienza di quello che ci sta succedendo attorno Prendiamo coscienza su quello che noi dobbiamo essere Quello che chiedo a tutti quanti è di non continuare più con questo massacro Cerchiamo di andare avanti, cambiando Quello che per secoli, quello che per anni è stato quello che abbiamo visto Tutto questo può cambiare Ci sono delle alternative Esistono delle alternative consapevoli, delle alternative etiche E delle alternative che non prevedono l'uccisione di animali innocenti Per favore cerchiamo di acquisire consapevolezza riguardo a tutto questo Gli allevamenti degli animali da pelliccia sono stati vietati in molti paesi In Europa, purtroppo ancora non in Italia Gli animali una volta nati vengono subito buttati dentro delle gabbie Più esemplari per ogni gabbia Queste gabbie sono esposte continuamente al freddo e alla corrente Per far sì che la pelliccia sia più folta e quindi più pregiata Sono sovraelevate dal terreno per far sì che gli escrementi cadano a terra Gli animali possano ferirsi e possono comunque convivere con alcuni dei compagni Che magari muoiono perché non ce la fanno L'evento è mirato alla sensibilità della popolazione Riguardo all'atrocità rappresentata dall'indossare una pelliccia Rappresentata dall'indossare una pelliccia perché indossare una pelliccia al giorno d'oggi È simbolo di crudeltà ed è simbolo dell'insensibilità nei confronti della vita stessa L'insensibilità di fronte al dolore provato da questi animali L'insensibilità di fronte al profitto di chi marcia proprio sul dolore di questi animali L'insensibilità di fronte a tutti quelli che non partecipano Che guardano da un'altra parte, che si girano E non permettono di fermare lo sterminio di queste creature innocenti Speriamo che tutti voi che guardate questo video Vi renderete conto di quanto importante sia Boicottare il mercato delle pellicce Grazie a tutti Just fucking stop Fuck off robot 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 Fuck off robot